bella ragazzi qui da 3Gamers bella qui con noi c'è Mostas bella e questo video è un video un po' particolare è un nuclear ma non è distratto dalla kill streak iniziale ovvero dalla prima uccisione ma dalla quindicesima uccisione perché l'ha salvato così è un hacker questo è un video solo aggiornamento perché non volevamo dirvi che questa settimana ci saranno ben 4 video devo prendere la pia eh sì, bravo, ho parlato molto più e comunque 3 saranno in live 3 saranno in live e uno sarà un commenter su MvTrack mentre i live sono su Tifa questo è un nuclear di banana tuls tuls grande molto rascinato di santo mi avevo provato a tutti i live dei clan dei che stanno dei live game mi sarebbe di santo ci scusiamo un attimo per la velocità del gameplay e non c'è l'audio perché lui l'aveva salvato velocizzato e che partiva dal 15 gunstrick quindi non siamo riusciti a portarlo all'interno però non potevamo sprecare il gameplay l'audio lo usiamo come videoterminutto ma sì, vi ho detto che sarà il nuclear in inglese sì in teoria beh, comunque il nuclear finisce il 93 no, tanto tu è... cos'è stato quel... cos'è stato quel vuove? forse... forse è attivato il b-start dico, box la stazza dei money 25 di fila comunque usare anche la pistola datelo messi le strecce adesso per questa settimana arriveranno un bel paio di video abbiamo lavorato oggi abbiamo fatto una faticata a registrare tutti questi video per il platform un pomeriggio interno eccolo qua hanno plan perché voi non lo sapete ma per registrare noi dobbiamo praticamente insomma tornare tutte le cose perché io devo portare il mio pc andare a casa di Alessio poi editare quello di Simone quindi è una gran incontra quindi dobbiamo essere tutti e tre non è che abitiamo c'è il pc c'è la sua strada soprattutto quel domone perché non è nervoso sì va bene due chilometri insomma e niente speriamo di piazza per tutti i fan di arriverà per tutti i fan di poi arriverà 14 la demo ovviamente noi siamo tutti hacker tutti hacker che robiamo comunque stay tuned perché mv3 è meglio e bella buon dai adesso ormai è finito per cambiare sì sì allora dunque i prossimi giochi saranno allora 81-2 è conclusa bravo non connessionato grazie a Barana che ci ha offerto questo gameplay ok e ad gettolo lol cristo santo ci vediamo alla prossima bella 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 grazie a tutti